il mitico nicolas o via nicolas su ho visto la roba nell'acqua c'era di ciuffiterba sul filo che andava non su, dico come cazzo guarda quello, ho visto sotto la letta un 35 che andava, dico guarda, guarda 35 da ragazza, si, 35 da ragazza, su è lui questo rapo, questo stasera lo porti a letto con te va bene, ha fatto un po' di 10 kg anche questo vediamo, vediamo, su di sotto diventa gigantesco deve essere un bel nappo no, è piccolino piccolino? 35 da ragazza, non so di questo 10.000 la canina da volentia del mio nonno è un anelli che c'è rimasto sì, infatti vedo che ne manca qualcuno che fai? l'anelli che non ho presi tu che fai Nicola? sta calmo è là giù fondo ascolta me abbassa la canna e recupera vai ora, piano piano ti ha preso un'alborella è bella grossa questa con la motel 3-0 l'ho presa c'è un gaccio, ci ho messo 5 alborelle come fai stasera che lo devi portare a letto? no, Nicola, se non lo vieni abbassa la canna e recupera vai pompo è pompo e poi si ferma lì è dura, capito, la pompa adesso stiamo facendo un volo è porta mia oh Dio è porta mia fa pochi versi vai, abbassa la canna e recupera vai e tiralo su però non c'è bisogno di smannecarlo su, riabbassa e recupera quando ti tocca la visiera del cappello riabbassa e recupera mi sembra di vedere il brilli col tonno la differenza è che il brilli si lecca a baffi dentro quante cose qui vai, su, se no ci stanno tre giorni guarda il pesce, non farei diversi oh, dai, che costi sotto la burella, finito dietro ma qui c'è la burella che taglia tra sicuro sì ah sì ma ora sia allora, vai non si si vede recupera e rivaglita un po' più di mezzo chilo mi sa un po' più di mezzo chilo mezzo chilo mezzo chilo ah beh te lo puntano mezzo chilo poi un rinneschia l'amone prendi uno tre volte vai che costi sotto su vedo più, potete vedo più buoia che guatto mio buoia che maravolo guarda lì ah 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 ma che beccia no ma questo è questo è 15 kg minimo ma come si fa ora a tirarlo fuori ma che stai chilo 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 è un metro e mezzo che sicuro spiaglia vieni a fare il video vai guarda che vio guarda guarda ma non ha mangiato eh figlio sarà meglio si si butta si si è tornato sotto vuoi più poco un metro e mezzo sicuro vai vai guarda che beccia fai glielo per colare mamma ti distrugge le mani se la pigli in bocca il rogato se la ti mette in bocca la manina non vedrai che dopo ti muovi quello di sotto fai glielo per colare mamma no così la piglia mai lo per colare pia 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 orca puttana orca puttana è quasi alto come te aspetta sto zichino sto zicadenti guarda qua vai 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 su faccia vedere su vai cazzo la fai oh no attento che ti va in acqua orca neanche io provo alzarlo via facci vedere quanto è alto una bomba nemica la sua del pesce non merita mica l'amazzato quanto è? un metro è? Nicola se ti trovo se fa una foto manda la mamma vai alzarlo girati alzalo via tira su tira in bacio in bocca Nicola Nicola girati alzati guarda a me guarda a me poi te lo manda tutto completo girati da me ecco pagina per nascere vai butta vieni vabbò è messo un quintale e mezzo sarà venti chili vabbè 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 vabbè